Stai a lato, alla regione sei con il centro-sinistra, qui con il centro-destra, io non riesco a capire, mi confondo proprio. Bisogna fare una cosa, intanto distinguere i luni tra il giornalismo e il candidato sindaco. No, stiamo parlando tra politici, qui siamo politici, non sono giornalista, sì politici. E allora i politici facciamolo tra poco. E vabbè è così bello, facciamo un dibattito. E lo facciamo tra poco. No, lo facciamo, rispondiamo. Quindi come si spiega? Un colpo al cerchio, un colpo alla botte? No, perché c'è una differenza, quando si indossa la maglietta rosso-blu non ci sono colori che... Ma se tu sei napoletano? Ebbè sei napoletano. Sono soltanto nato. Nato e vissuto, è una bella cosa essere napoletano. Quindi centro-sinistra alla regione, centro-destra al comune. Forse non riesco a capire io. E riesco a spiegare, adesso lo spiego a me. E spiegamelo. Sono stato eletto consigliere regionale a sossegno di Michele Emiliano, oggi per Taranto indosso la maglietta rosso-blu. Oggi stai col centro-destra al comune? Io oggi al comune presento una lista che mette finalmente i colori e la maglietta. E ma stai col centro-destra? No, il centro-destra... La tua coalizione è al comune, è espressione del centro-destra? No, noi abbiamo fatto il... È alleata del centro-destra? È alleata del centro-destra, va bene così? È alleata con il centro-destra, sì. Ma la regione, tu stai col centro-sinistra? È eletto con il centro-sinistra. Ma stai col centro-sinistra? Ah, cambia anche un'altra volta, un altro salto della quaglia? Stellato? Un altro salto della quaglia? È divertente quando... Senza offesa a Stellato, ma mi sembri un po' politicamente pulcinella. Un po' pulcinella, politicamente, politicamente. È la stessa cosa che stai facendo tu oggi. No, no, io sono coerente con me stesso. No, confondi i poli. Elettori di centro-destra, mi rivolgo a voi. Non potrete certamente votare Melucci, espressione del centro-sinistra, ma non potrete neanche votare la persona che vi hanno imposto, Musillo, perché è un uomo di sinistra, è l'ex segretario provinciale del PD. Potreste far convergere i vostri voti sulla mia persona? Sono un uomo libero, mi presento trasversalmente rispetto ai partiti, ho 20 anni di battaglie documentate, certificate da giornalista per difendere la mia e la nostra Taranto. Parlano i fatti, parlano le immagini. Ho sempre sfidato il sistema, perciò avete un'opportunità, una opportunità che il centro-destra vi ha voluto negare mettendo un uomo di sinistra mascherato con i colori del centro-destra. Grazie a tutti.